L'organismo sviluppa tramite un linfocita basso E non è obbligato più Chissà se sua eccellenza dell'ordine delle psichiatri Orazio Antonuccio Ha fatto parte o avrà fatto parte a questo congresso a tema Quasi sicuramente, ancora non ho neanche letto l'articolo Ma in un rango così difficile come la psichiatria In una mia esperienza personale dal 2001 al 2015 Non ho dubbi che sia lo psichiatra più idoneo a presiedere Tale rango nella mia zona della Sicilia sud orientale Ce ne fossero di Orazio?